Trance di premiazioni, la inizio ringraziando un altro nostro importante sponsor che abbiamo il piacere di avere qui in sala, la Ferry Auto, avete visto lo Stelvio di rappresentanza e a nome del supporto che ci stanno dando per il terzo anno consecutivo anche loro, inviterei l'equipaggio dello Stelvio a venire a ritirare un presente qua per la consueta foto di rito anche, un applauso perché vi diamo targa e vi diamo anche se vuoi dire due parole volentieri Dio, vorrei farvi complimenti perché è organizzazione impeccabile, è veramente puntuale, veramente è un bellissimo evento e ci vediamo anche il prossimo anno Grazie, un grande applauso a Ferry Auto Grazie veramente Adesso premiamo, io penso uno degli amici più forti che Stile abbia, che partecipa ogni anno, che è qua sempre con noi delle primissime edizioni Vorrei qua il signor Franco Furlanetto da Eraclea, è un grande applauso per lui perché è un grande, è un grande Oggi ci ha deliziati con un duetto osso di seppia stupendo Franco sei veramente un amico di Stile, abbiamo sempre piacere di averti qua con noi, sul serio Franco se vuoi dire due parole volentieri Il mio mondo è un mondo tanto lungo, avendo fatto 25 anni di gare automobilistiche, vincendo sei capitati italiani e un europeo Adesso ho toccato il casco al chiodo, che mi dispiace anche Però sei qua con noi Sì, adesso sono qua con voi Grazie di tutto e complimenti per la vostra organizzazione Grazie E adesso vorremmo premiare un altro amico di Stile che oggi sicuramente l'avete notato in mezzo alle vetture selezionate Guido Botteri con il suo splendido 1750 Guido che lo possiamo dire sei conosciuto come Guido l'Alfa, quindi personaggio riconoscibilissimo Grande applauso anche per lui Benvenuto Guido Minimo, prego Gira la targa Guido, gira la targa Perfetto Bene, buono, è stato un piacere essere qua, sono con voi Verrò anche il prossimo anno E ti ho detto già, quest'anno mi sono dimenticato Devo farmi il socio Tranquillo, abbiamo tutto dicembre La cena auguri i soci Grazie Guido Grazie E vorrei finire con tre club, premiamo tre club Invito veramente con molto piacere a venire qua a una delegazione di rappresentanza del CAM e Carnia E ovviamente un applauso perché Francesco e gli altri Dove sono? Non ci sono? Sono andati a fumare? Va bene? Premiamo un altro Premiamo gli amici austriaci del club Quadrifoglio Verde San Polten Un applauso a loro che ogni anno Un'ingente presenza, veramente Arrivano sempre il giorno prima, arrivano il giorno della vigilia E li vedo pesantemente armati Grazie Thank you, really, really This is a really nice surprise A little present from Austria From our region Wow Wow, it's very Yes Grazie 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 Allora, one moment, please Thank you for all of this, really Thank you Stop, 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 stop Esther Grazie 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 Stile And grazie Rodolfo For the nice day Grazie Alfa Romeo Quadrifoglio Verde San Polten Grazie Grazie E adesso Premiamo Il club Ah no, non li vedo Non li vedo Aspettiamo un attimo Allora, aspettiamo un attimo che ritornino Così premiamo i ragazzi del CAMEC E premiamo un altro club che avrete già capito di chi sto parlando Quindi ci vediamo fra un poco perché non li vedo presenti a tavola Grazie Grazie